Per Marsi Per Marsi, diamo ancora E cambia regolarmente la batteria con la squadra della menzana Seduta da Pettinatore e San Mauro Entrano rapidissimi in zona Cambia la menzana Cambia il Pettinatore Poi sta penito Poi il diavoli rossi Veronica, Buccolino, Cettino e San Mauro E poi Brianza E' un'epoca sul traguardo della squadra della menzana L'altidereina 33, 287 Partita regolarmente la batteria Della squadra della Unasport Academy All'accorda che prende la prima posizione Seduta la polisportura di Bellusco Poi Bologna Poi Alteciccato Poi la menzana Cambio Cambia Unasport resta in testa Ora il Bologna si porta in seconda posizione Si presentano sulla Repubinione Si presentano sulla Repubinione D'arrivo Unasport Bologna Bellusco che ora cerca di recuperare Intanto va a chiudere in 33,920 Tornare Partita ora la batteria Ed è proprio la squadra della Vittoria Torino Che si porta in testa Seduta dalla Rosetta Verante Poi Spinea Poi Azzurra Cambi i lunghi per Spinea e Azzurra Mentre Vittoria Torino Al Lugna Si presenta sul Repubinione D'arrivo D'arrivo Ma a chiudere in 34,217 Poi le hanno Formare 6-1 Partita regolarmente la batteria con rolling Mosica Poi Alticeccato Triolo Testa a testa Passa poi Triolo Perde qualche tempo L'altretta dell'alticeccato Cambia Mosica Cambia Triolo Savona Alte Movinic Ed eccoli Scilla Rittimiglio D'arrivo E dalla squadra della rolling Mosica Martinsicuro Che va a chiudere in 34,304 Fermare Buon mare Marchinta regolarmente la batteria Ed è l'Uno Sport Accade prima All'esterno New Roller Passa L'Uno Sport Scusate Ha perso il passo New Roller Me l'avevo perso E invece Hai rolling Mosica Nettamente in testa Ed è il Mosica Che si presenta Con dietro Un testa a testa Fra tutte le altre Va a chiudere Mosica Davanti A New Roller Spine In position Set Mare Set Mare Set Se Mare Scusate E la squadra di Bellusco in testa davanti alla Juvenilia poi Johnny Club Albignaseco un grano in zona cambio cambia Bellusco cambia Juvenilia cambia Albignaseco allunga la squadra della polisportiva di Bellusco poi Juvenilia poi Albignaseco ed è Bellusco che va a chiudere in 33 893 attenzione abbiamo ancora una squadra in gara ok ora andiamo in position set 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 partita regolarmente la batteria e allora sono città di Piole Gargallo che si porta in testa allunga la squadra di Siracusa cambio cambio per San Vignano ed ecco che si presenta all'arrivo va a chiudere in 33 273 poi la squadra di Nobili cantù e poi a chiudere in a chiudere in l'arrivo l'arrivo Grazie.